e bentornati ragazzi in questo nuovissimo video sono sempre io felix oggi un nuovissimo metodo per andare a minare dogecoin con il nostro pc un metodo veramente veramente semplice nel video precedente ragazzi vi avevo fatto vedere come minare dogecoin con zerg pool è un video un po più lungo un po più complicata le impostazioni del mining del programma ma nel video di oggi vi voglio fare vedere un altro programma veramente semplice che l'ho scoperto da poco che ci permetterà di minare dogecoin in modo veramente veramente veloce dobbiamo solo andare ad impostare come minare dogecoin se minarli con la nostra gpu o se minarli con la nostra cpu e in più ragazzi ovviamente dobbiamo andare ad impostare il nostro indirizzo personale di dogecoin tutto qui veramente in modo semplice segui questo video tutorial passo a passo se vuoi capire come minare dogecoin direttamente da casa tua con il tuo pc ma prima di proseguire ragazzi vi invito come sempre a lasciare un bel like a questo video e sostenere il mio canale di youtube scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e seguitemi anche su instagram e su telegram se volete rimanere aggiornati sui nuovi programmi per andare a minare dogecoin oppure andare a minare qualsiasi altra criptomoneta qua ragazzi come vedete sono all'interno del mio pc e adesso andiamo a vedere con quale programma andare a minare dogecoin mi raccomando ragazzi seguite il video fino alla fine per capire come impostare il tutto allora ragazzi per andare a minare dogecoin o qualsiasi altra criptomoneta mio in questo video mi baso solo sul dogecoin dobbiamo utilizzare questo sito qua chiamato unminable unminable.com ragazzi questo sito qua ci permetterà di andare a scaricare il programma e andare ad impostare il nostro indirizzo dogecoin e venire pagati in automatico al raggiungimento dei 50 dogecoin quindi una volta arrivati in questa pagina qua chiamata unminable.com ci troveremo in questa schermata qua qua ragazzi come vedete abbiamo tutte le cripto da andare a minare noi ovviamente dobbiamo andare a scegliere premiamo una sola volta su dogecoin qui ragazzi una volta fatto andate direttamente nel download lo andate a scaricare il programma andate qua andate a premere col tasto destro del vostro mouse su salva link con nome e lo andate a salvare nel vostro pc una volta fatto ragazzi andate ad installare il programma ovviamente se avete l'antivirus ve lo bloccherà il programma perché quasi tutti i programmi per andare a minare le cripto monete con il pc dagli antivirus e da windows defender vengono visti come dei malware ma non vi dovete preoccupare perché questo sito qua è serio è pagante e qua come vedete hanno già minato più di 53 bitcoin ragazzi che sono veramente un sacco di soldi e ci sono attualmente 15.000 persone collegate questo qui è il programma ragazzi ok premiamo su continua qui dobbiamo andare a selezionare o la gpu quindi andare a minare dogecoin con la nostra gpu oppure abbiamo la possibilità di andare a selezionare il minaggio con la nostra cpu io consiglio ovviamente per un minaggio più veloce ovviamente la gpu la nostra scheda video mi raccomando ragazzi fate questa cosa se sapete quello che state facendo perché ovviamente questo un video tutorial dove vi spiego come minare dogecoin che è una moneta adesso anche diventata virale che attualmente ha un prezzo di 5 centesimi di dollaro mesi fa non aveva neanche un prezzo un valore ok quindi è molto ricercata come cripto ma ricordatevi che il minaggio con il pc di casa porta all'usura della cpu e della gpu quindi questo qui è un solo video tutorial video informativo dove vi spiego come minare dogecoin con il vostro pc quindi andiamo a selezionare ovviamente io seleziono personalmente gpu continua qui ragazzi andiamo a selezionare la criptomoneta che vogliamo andare a minare quindi andiamo a scrivere doge come vedete molto semplice dogecoin e qua ragazzi cosa molto importante dobbiamo andare a mettere il nostro indirizzo personale di dogecoin per ricevere automaticamente una volta arrivati il prelievo minimo e il payout di 50 dogecoin automaticamente andranno spediti nel nostro indirizzo personale del nostro wallet adesso vi faccio un esempio stiamo andando nel mio wallet personale di binance ok ragazzi qua come vedete potete scaricare l'app di binance vi dovete registrare ovviamente andate qua nel portafoglio qui come vedete io attualmente ho più di 40.000 dogecoin che attualmente quel valore di adesso valgono 1713 euro ragazzi in più ho comprato dei cardano e del binance coin per ottenere ragazzi l'indirizzo dogecoin con binance ok andate a premere su doge e andate a premere su deposita qua ragazzi come vedete tutti quanti voi avrete un codice un indirizzo personale da andare a copiare come vedete andarlo ad incollare poi all'interno del programma per ricevere i dogecoin questo lo si fa con binance invece ragazzi c'è un'altra applicazione è questa qua è sempre un altro wallet è chiamato crypto.com attualmente molto popolare vi lascio il link qui sotto in descrizione la quale vi darà anche un bonus che per andare a sbloccare poi questo bonus dovrete comprare mettere in stake 5000 cro che sarebbe poi la criptomoneta chiamata crypto.com qui ragazzi una volta entrati in nel wallet di crypto.com basterà andare a premere in centro qua andiamo a premere su transfer andiamo a premere su deposita qui adesso andiamo a scegliere la nostra criptomoneta ovviamente andiamo a scegliere il doge dogecoin qua e quello che vedete è un altro indirizzo dogecoin sempre questo indirizzo qua se avete crypto.com lo potete andare a copiare ad incollare nel programma solo per i depositi non per i prelievi quindi andranno poi depositati all'interno di questa app manualmente perché non vi fa fare un copia incolla basterà andare a copiare l'indirizzo dogecoin con il vostro mouse premete su copia e qua quando siete praticamente nella schermata del programma ok andate a premere con la tastiera control v e come vedete qui ragazzi abbiamo incollato il nostro indirizzo dogecoin andiamo a premere poi su start e qua ragazzi come vedete stiamo iniziando a minare dogecoin e questa qui è praticamente la potenza di calcolo della mia gpu più è alta questa potenza di calcolo qui più veloce sarà il minaggio del dogecoin qua potete vedere ci abbiamo anche un grafico praticamente per ogni minuto di minaggio potete poi andare ad impostare se il minaggio del dogecoin lo volete intensivo quindi se volete andare a pompare al massimo la vostra gpu per il minaggio oppure se lo volete in modalità un po più bassa andare a mettere su love qua come vedete il prelievo sarà automatico una volta che avete raggiunto poi i 50 dogecoin per andare poi a vedere ragazzi il vostro indirizzo quindi andare a vedere proprio quanti dogecoin state guadagnando potete andare anche adesso stoppiamo un attimo vedete come è semplice questo programma potete ritornare qua nel sito adminable.com andare su indirizzi qua andate control v a incollare il vostro indirizzo dogecoin che avete incollato nel programma e andate a ricercare come vedete veramente semplice non bisogna neanche registrarsi al sito e basta solamente scaricare il loro programma di minaggio qua come vedete potete impostare se andate a scegliere il prelievo automatico una volta raggiunti 50 dogecoin senza dover andare a premere su pay now quindi mettendo praticamente il prelievo minimo a 50 dogecoin pay automatically in modo automatico ci andrà a creditare dogecoin nei nostri wallet personali nel nostro indirizzo personale che abbiamo praticamente scelto e qua potete vedere poi il vostro balance ovviamente aumentare grazie al minaggio della vostra o cpu o della vostra gpu avete visto ragazzi come è semplice questo programma per andare a minare dogecoin non è come il video precedente su come minare dogecoin da casa il video di zack pool che è molto più complesso dovete andare a selezionare un sacco di cose con unminable.com riuscirete a scaricare il programma senza neanche registrarvi quindi senza dare i vostri dati personali email o password andate a scaricare il programma vi servirà solo il vostro wallet personale dogecoin dove andare a depositare automaticamente i dogecoin minati con il vostro pc e dovete scegliere con quale dispositivo del vostro pc andare a minare o la gpu o la cpu questa qui è una vostra scelta ed è una vostra scelta anche andare a scaricare questi tipi di programmi qua perché questo è solo un video tutorial è un video informativo su come minare dogecoin ebbene ragazzi per il video è tutto mi raccomando se volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale attivate la campanellina e ditemi qui sotto cosa ne pensate nei commenti ditemi anche se volete dei video tutorial su altre cripto e come andarle a minare noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao da felix